Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 20 giugno 2011 e sono ora alle 16 e 20 minuti precisi, eh cari amici. Il sogno americano, American Dream, vediamo un po' come è il sogno americano, cari amici. Perché? Perché? Perché per valutare ciò che avviene in Italia e non basta fare come le comari sul ballatoio che stanno lì sempre a spetticolare dei fatti del ballatoio e bisogna conoscere anche i fatti che avvengono in tutto il condominio. E così per sapere come siamo noi, se siamo messi bene o se siamo messi male, e dobbiamo confrontarci pure con gli altri paesi del mondo. Se poi ci confrontiamo con gli States, cioè con l'impero, l'impero americano, è ancora meglio. Proviamo a confrontarci con gli States e invece di stacquare a litigare, capito cari amici. Confrontiamoci con gli States, va bene? L'impero americano, American Dream. Allora, questa è la stampa odierna di oggi. Ah, guardate che questa notizia è riportata anche su tutti gli altri giornali, cari amici. Sono notizie queste che troviamo anche su internet. Negli USA, un futuro di pensione da fame e vecchi al lavoro. Ma è inutile stare qua a sentire parlare, mi si perdoni, Rosi Bindi, Rosi Bindi, Pierluvigi Pezzani, Tonino Di Pietro, Nighi Vendola. È inutile sentire parlare. E dico loro, perché a governo non ci sono loro, ci sono degli altri a governo. Io dico loro, perché sono loro che dicono pane, lavoro, libertà, andiamo avanti, sempre più avanti. Ma che cosa vuoi andare avanti che tutto il mondo va indietro? Tranne il Grande Oriente, dove si lavora però senza diritti cittacali. Cagli ragazzi, si va indietro in tutto il mondo. Ho già fatto il video, tanti video. Uno intitolato Occidente Default, che si scrive Occidente Default. Poi ancora tanto tempo fa ho fatto il video La Cina è vicina. Cosa volete andare avanti? Che volete spingere? E devo parlare per forza di loro. Mica posso parlare degli infamoni che stanno al governo. Loro stanno al governo e basta. Governano male? E vabbè, allora governano male in tutto il mondo. E se vedi che si governa male in tutto il mondo, si governano male in Italia. E io devo dire, ma cosa spingete? Ma cosa spingete? Nichi Vendola, che sei il governatore più pagato d'Italia? Fa così, Rosi Bitti, fa così. Cosa vuoi spingere, Nichi Vendola, che sei il governatore più pagato d'Italia? E cosa vuoi dire tu, Giuliano Pisabia? Che come sindaco di Milano il primo atto che hai fatto è stato quello di prendere come assessore al bilancio nel comune di Milano Bruno Zabbacci, che è un parlamentare. Invece di prendere un laureato in economia e commercio disoccupato, magari un bravo ragazzo che ha avuto un buon voto di laurea. Anzi, il senatore, cosa volete spingere? Ma che cosa spingete? Spingete? Negli usa un futuro, ma vediamo un po', vediamo cari, vediamo un po' che cosa si dice. Perché se conosciamo queste cose, poi comprendiamo meglio pure quello che avviene in Italia. Poi parliamo anche della rivoluzione, della prossima rivoluzione parliamo. Allora, gli americani hanno una previdenza pubblica meno generosa di quella italiana e infatti c'è il ricorso alle pensioni integrative. Ma vediamo, il bello deve ancora avvenire, cari amici, dunque, 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 i lavoratori sono di fronte a una dura scelta. Mettere da parte una fetta più consistente dello stipendio, rassegnarsi a lavorare più a lungo o fare entrambe le cose. Ma il bello deve ancora avvenire, non è mica finito, il bello è. Dunque, il solo prolungamento della carriera, ben dentro i settanta e persino gli ottanta anni, il solo prolungamento della carriera, cioè dell'attività lavorativa, il solo prolungamento della carriera, ben dentro i settanta, noi, i sessantadue anni o i sessantacinque anni di cui stiamo parlando qua in Italia, il prolungamento della carriera, ben dentro i settanta e persino gli ottanta anni, non arriva infatti a soddisfare la formazione di una riserva sufficiente a mantenere un tenore di vita agevole, ossia comparabile a quello della stagione lavorativa, non da ricconi. Cioè, in pratica, se gli americani vogliono avere una pensione che sia, diciamo, vicina alla retribuzione che percepivano mentre lavoravano, devono entrare dentro i settant'anni, devono lavorare fino a settantacinque, settantasei e anche dentro gli ottant'anni. E provare per credere, verificare, fare le ricerche, cari amici, andare a confrontare, verificarlo questo articolo. Ma ormai lo sappiamo, lo sa tutto il mondo, che negli Stati, nell'impero, ci sono 40-50 milioni di cittadini che non hanno l'assistenza sanitaria, lo sanno tutti questo, anche le pietre lo sanno. Capito? Negli Stati Uniti, per chi uno possa avere una pensione che possa rassomigliare un po' alla sua retribuzione, deve addentrarsi, deve addentrarsi, oltre i settant'anni e anche oltre gli ottanta anni. Cose per noi inimmaginabili. Eppure nell'impero è così. E poi si dice appunto che, attenzione, questa realtà riguarda il 70% dei lavoratori, il 70%. Il 70% è la quota dei lavoratori americani che sanno di non risparmiare abbastanza in vista del pensionamento. E per cui, non risparmiando abbastanza, dovranno inoltrarsi dentro i 70 anni e magari anche dentro gli 80 anni. Ma guardate che io ho dei conoscenti, eh? Ho dei conoscenti negli States. E qualche vecchietto, più vecchietto di me, che ancora lavora, eh? Ancora lavora perché l'attività lavorativa pregressa non è stata sufficiente, capito? E lavora ancora, eh? Si avvicina di 80 anni, va a scaricare dei cassetti, dei cassetti in un supermercato. È inconcepibile per noi, inconcepibile. Beh, ci sono anche in Italia questi episodi, ma sono rari, sono rari. Invece qua sono comuni, eh? Bene, cari amici, io ve lo vorrei leggere tutto questo articolo. Ma cosa ho letto? Ormai l'essenza, la sostanza l'avete già, già acchiappata, vero? Capito? Quindi il 70% dei lavoratori è consapevole che dovrà addentrarsi dentro i 70 anni o dentro gli 80 anni per avere una pensione che assomiglia un pochettino alla loro, alla retribuzione di quando stavano a lavorare. Cioè è una qualcosa di decente. E vabbè, ma che ve le dice queste rossi bindi che l'impero americano è in questa situazione? Ebbè, ma allora se noi fossimo in questa situazione che cosa avremmo fatto? Che cosa avremmo fatto? Avremmo già fatto che? Un'altra rivoluzione francese o un'altra rivoluzione sovietica? È perché qua mi parlano tutti di una realtà insostenibile, però nessuno si fa avanti per fare la rivoluzione. E tutti a dire, in Grecia, in Grecia, o fiducia o catastrofe. Cioè Papa Andreu dice, o metà della fiducia, che vuol dire lacrime e sangue o catastrofe. E dai che i giovani mi dicono, ma lo so, lo so cari amici, lo so. Ebbè, questo canale, in fin di conti, si basa tutto sull'analisi del passaggio dal matriarcato al patriarcato, l'analisi di come nasce la proprietà privata e che cosa volete che vi dica io. Ma io mica vi posso dire, accappate il fucile, fate delle belle barricade, fate un'altra rivoluzione francese, perché essendo io uno che conosce la storia, perché l'ha insegnata, io l'ho insegnata, ho insegnato filosofia e storia nei licei classici e scientifici. E poi ho fatto anche il preside dei licei classici e scientifici. E insomma un pochettino la conosco la storia. So come è andata a finire la rivoluzione francese. Liberti, egalitì, fraternì dè. E poi è arrivato Napoleone, che era un dittatore, si parla di buonapartismo, se parla. E dopo Napoleone è arrivata la restaurazione, per cui l'Europa è precipitata in una situazione peggiore di quella pre-rivoluzionaria. Conoscendo la storia vi posso anche dire che c'è stata anche la rivoluzione sovietica. Con tutti gli operai che hanno ammazzato tutti i nobili, li hanno ammazzati tutti i nobili, i ricconi. Hanno fondato l'URSS, l'Unione Repubblica Socialista Sovietica, dove è stato eliminato la proprietà dei mezzi di produzione e si è un pochettino pressoché eliminata la proprietà privata. Dopo una settantina d'anni l'URSS è caduta. E oggi, nella Russia di oggi, la Russia di Putin e di Medvede, ci sono gli oligarchi, gli oligarchi ci sono. E c'è un giro di mafia, c'è un giro di mafia, altro che in Italia, altro che Silvio Berlusconi. E poi come c'era quello che batava i cavalli di Silvio Berlusconi. C'è un giro di mafia, cari amici, andate a informarvi voi a visitare su qualsiasi motore di ricerca. La mafia in Russia, cari amici. Perché dite la verità che voi, a forza di ripretenirvi davanti al telegiornale, pensavate che la mafia ce fosse solo in Italia, vero? C'è una mafia, cari amici. C'è una mafia in Russia, cari, cari, che vi hanno detto che la mafia esiste solo in Italia. Non parliamo della mafia, del cartello mafioso che c'è in Messico. Cioè, lì è in pratica la mafia che c'è in Messico, in pratica è uno Stato contro lo Stato. Da noi è un piccolo Stato la mafia, ma la mafia messicana a confronto della mafia italiana è come una superpotenza. Perché vanno insegnando che la mafia ce la sono in Italia. Chi è stato Torino di Pietro che vi ha insegnato queste cose? Che la corruzione ce la sono in Italia. E Torino di Pietro, vero? E chiedono, cari, questo è l'andamento patriarcale. Allora, è inutile stare qua a lamentarsi. Sembra c'è il fucile, si fa la rivoluzione, però qualcuno deve partire. E non è che dovete fare come Benito Mussolini che diceva, ma non so se è vero, ma è una panzelletta, diceva armiamoci e partite. E io ricevo tanti commenti, qua tanti commenti. E se la Sino Manzoni mi ha detto, ma tu che ci proponi, che ci proponi? E io che vi propongo, vi dico, mettetevi calmi. E se non vi va a distarcarmi, cosa volete fare? Prendete il fucile. Fate come i rivoluzionari francesi o i rivoluzionari sovietici. Eh? E cari, questa è la situazione, l'impero americano, il sogno americano. Ci devono addentrare verso, oltre i settant'anni o oltre gli ottant'anni. Ci devono addentrare, capito? C'è scritto così sul giornale, gli americani, American Dream. Capito come stanno nell'impero? Cari, questa è la situazione, ne ho parlato ampiamente, nel video Occidente Defoe. Occidente Defoe non c'è niente da fare. Una situazione come questa, nel corso della storia patriarcale, non c'era mai stata. Perché, in un certo senso, possiamo dire, da che patriarcato è patriarcato? Diciamo l'Occidente, aveva sempre dominato su tutto il resto del mondo conosciuto. Sempre, sempre, sempre. D'accordo? Già dall'impero romano, il dominio. Poi c'è stato l'impero spagnolo, il dominio su tutto il mondo, il dominio spagnolo e portoghese. Dominio su tutto il mondo. Poi l'impero francese, olandese, belga, spagliati, su tutto il mondo. Poi l'impero inglese, non vi dico dell'impero inglese, cari amici. Non ve lo dico dell'impero inglese, tutto il mondo. Uno sfruttamento che non vi dico, eh? E poi adesso c'è l'impero americano. Sì, però, noi non eravamo abituati mai ad avere una potenza che trasse in concorrenza con noi. E questa potenza c'è adesso, il Grande Oriente. Il Grande Oriente che è anche un pezzo d'Occidente, il Brasile. Il Grande Oriente è fatto da Giappone, Corea del Sud, Cina. Uh, quanto è grosso la Cina. Brasile e India, subcontinente asiatico, Singapore, lievi di seguito. E ci sono 4 miliardi di abitanti nel Grande Oriente. E questi cari lavorano senza contratto di lavoro, eh? Lavorano senza contratto, eh? Lavorano anche in situazioni di precariato. Non è che c'hanno l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, eh? Uh, in Cina, in Brasile, in subcontinente asiatico che non c'è contratto di lavoro, quello che vuole cosa, lì come si chiama, quella donna che comanda la CGL. Non ci sono queste cose. E dai che mi dicono che non siamo noi che dobbiamo regredire al modello lavorativo schiavistico del Grande Oriente, ma dobbiamo fare in modo che il Grande Oriente accolga il modello lavorativo evoluto occidentale. E dai che me lo dicono, con tutte le salse me lo dicono. E come facciamo a convincere la Cina, l'India, anche il Brasile? Perché pure se c'è una rivoluzionaria in Brasile, pure se c'è una rivoluzionaria, le condizioni lavorative del Brasile non sono mica tanto rivoluzionarie, cari amici. E che gli facciamo? Gli facciamo una guerra? Gli facciamo? Facciamo una bella guerra. Non mi dite, non mi dite, calcare favore, non mi dite che l'Occidente non deve accettare le condizioni lavorative dell'Oriente, ma è l'Oriente che deve accettare le condizioni lavorative più evolute dell'Occidente. Ma come facciamo? E vabbè, infatti facciamo la guerra nucleare. Le ho dette queste cose in un video intitolato Ipotesi Apocalisse e intitolato anche Ipotesi Terza Guerra Mondiale. Capito, cari amici? E allora, cari, che fare? Che fare? Ebbè, guardare quello che avviene in tutto il mondo, guardare con calma quello che avviene in tutto il mondo e poi cercare di capire meglio. Perché se state qua ad aspettare che certe cose ve le dicano quelle della televisione voi continuate a dire come fare come quelle donne lì nel ballatoio, continuate sempre a parlare delle cose del ballatoio. Ma no, queste qua, ormai la crisi, la crisi è una crisi che questa non è più una crisi congiunturale, cari amici, è una crisi strutturale. Perché l'Occidente è fronteggiato alla Grande, dal Grande Oriente e contro il Grande Oriente abbiamo le armi spuntate, a meno che non si utilizzino le bombe atomiche. E dai che qua i giovani continuano a dire portarvi ai ricchi e dare ai poveri. E vabbè, è quello che hanno fatto con la rivoluzione francese e con la rivoluzione soffitica. E facciamola pure noi in altra rivoluzione francese, in altra rivoluzione sovietica. Vuol dire che per 10, 15, 20 anni faremo fuori tutti i ricchi e dopo 15, 20, 30 anni le cose torneranno come tornarono dopo la rivoluzione francese e dopo la rivoluzione sovietica. Cioè, come prima è peggio di prima. Intanto io devo osservare con molta amarezza che la salvezza, la salvezza, io pensavo che potesse venire da Nichi Vendola la salvezza, invece mi rendo conto che Nichi Vendola è il governatore più pagato d'Italia. Pensavo che potesse venire da Pisapia la salvezza, invece mi rendo conto che appena è diventato sindaco di Milano, Pisapia invece di nominare come assessore all'economia nel comune di Milano, un bravo laureato, giovane laureato disoccupato, ha nominato cosola, come si chiama quel parlamentare, Bruno Tappaci. Ma come se ce l'ha già il posto di lavoro Bruno Tappaci in Parlamento e tu Giuliano Pisapia, proprio lui, il prendi come assessore che tiene le due cariche poi, non le due paghe, ma le due cariche. Per cui se tiene due cariche o fa male tutte e due le cariche o fa bene una carica e non fa l'altra, mandiamo la speranza, la speranza dell'avvenire. Cari, e a questo punto non mi dite, capito, c'è la rivoluzione, c'è la rivoluzione, indignati spagnoli, indignati greci, indignati italiani, provate, qualcuno di voi comincia a impugnare i forconi e vediamo come va a finire, però ci vuole qualcuno che cominci. Io non lo so se i ragazzi d'oggi che sono cresciuti insomma nel benessere, nel benessere sono cresciuti che sia chiaro, che sia chiaro, non lo so se hanno la forza di impugnare i forconi come ai tempi della rivoluzione francese o di impugnare anche cose ancora più pesanti che sono solo gli operati, sono capaci di impugnarli come ai tempi della rivoluzione sovietica. Cari, andate a dare una rispolverata ai miei video intitolati Occidente defaulta, Occidente defo, intitolati anche la Cina è vicina, intitolati anche ipotesi terza guerra mondiale, ipotesi apocalisse. Sì, e noi possiamo modificare le modalità lavorative del Grande Oriente con la bomba d'ombra, poi dopo si distrugge tutto il Grande Oriente perché l'impero americano ce l'ha questo potere, l'impero americano è pieno di debiti, pieno di debiti nei confronti dei cinesi, i cinesi hanno prestato tantissimi fondi sovrani agli americani e se i cinesi dovessero chiedere indietro agli americani tutti i soldi che li hanno prestati e gli americani andrebbero a fondo e allora per non andare a fondo gli americani sapete cosa farebbero? Darebbero, direbbero, sì Fort Knox non ce n'è più di oro, c'era poco poco di oro a Fort Knox, però abbiamo gli arsenali nucleari zeppini zeppi così e invece le dargli indietro i soldini ai cinesi gli mandiamo un po' di bombe nucleari, poi viene distrutto tutto il Grande Oriente e poi si fa un bel piano Marshall di ricostruzione e l'economia riprende. Non me lo dite cari amici che è il Grande Oriente che deve avvicinarsi alle condizioni lavorative dell'Occidente, è andato glielo a dire voi al Grande Oriente, no? D'accordo? Beh, è così e o si accetta la contrazione, o si accetta la contrazione welfare oppure si imbraccia a forconi. A voi è l'altra sentenza cari amici, se diminuire le nostre spese, io e voi conosciamo tanti giovani che vanno a fare le vacanze con l'aeroplano e magari fanno anche un debituccio, si fanno prestare i soldi da una banca lì, da una finanziaria a prendere le sciamme scelte a Cuba, Cuba in aere, così come se Cuba fosse lì dietro l'angolo. Cari, o accettiamo una contrazione welfare oppure si imbracciano i forconi, oppure si tace. Capito cari amici? È così cari amici, è così. E se si imbracciano i forconi si fa un'altra rivoluzione francese, un'altra rivoluzione sovietica e poi fra 15 e 20 anni tutto ritorna come prima e peggio di prima. Va bene cari amici? Date retta a me cari amici, io vi ho sempre detto, per soffrire di meno cercate di non desiderarla troppo la proprietà privata, capito? Dategliela voi per prima una limitata al vostro welfare individuale, d'accordo? D'accordo? Ecco, perché si può vivere pure con molto poco, molto poco si può vivere cari e comunque sabbiate che questa situazione è una situazione non congiunturale ma strutturale per cui poveretti, poveretti coloro che entranno a Palazzo Chigi la prossima volta, ah che fanno di tutto, fanno di tutto per prolungare l'agonia di Silvio Bedusconi, resta lì a Palazzo Chigi, resta lì, resta lì, e vi ho fatto il video in tutto lato, quando cade questo governo, punto in domanda, e ve lo dice Pierluigi Bersani quando cade questo governo, che vi andate a vedere il video in tutto lato, quando cade questo governo, capito cari amici? Allora, o accettiamo tutti, diciamo così, c'è appunto una moderazione del welfare, una contrazione del welfare, oppure andiamo a imbracciare i folconi, capito? E' così che si va, a tu che stai lì a fare i guappi, pi, 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 ah no, andiamo, ragioniamoci sopra le cose, teniamo presente la storia, teniamo presente la storia, che ogni lungo rivoluzione ha comportato un enorme spargimento di sangue e dopo non tanto tempo le cose sono tornate come prima e peggio di prima, perché la razza dei ricchi è una razza particolare, se perpetua all'infinito, capito cari? Più ne eliminate voi dei ricchi e più loro risorgono, i ricchi sono un pochettino come, come si chiama, quel lucendo mitologico che risorgiva dalle proprie scenerie, c'era quel famoso uccello, la Fenice, la Fenice, un uccello mitologico, un po' il simbolo della mazzoneria, che moriva, moriva nel fuoco e poi rinesceva dalle proprie scenerie, così sono i ricchi, più li ammazzate voi e più rinascono loro, capito? Non c'è niente da fare, cari amici, va bene? E in base al cazzo non ci è mai riuscito nessuno a eliminare i ricchi, capito? E prendete consapevolezza della realtà, no? E basta, no? Stai lì a fantasticare, fantasticare, alimentare le speranze, che c'è un proverbio che dice che chi di speranza vive, il disperato muore, no? Cari amici, su, va bene, questa è l'analisi, l'analisi fatta dalla sommità del condominio, capito? In modo di poter vedere tutta la città, no? Lì fatta su un ballatoio lì, su i bisbigliari, lì, così bindi, ma se non c'è stanno soldi in America, non c'è stanno soldi in America, non c'è stanno soldi, ci possono essere soldi in Italia, ah? Se c'è la Griscia che va a fondo, tu così bindi per Luigi Bersani, Nicchi Vendola e compagnia bella, ma che cosa volete? E eliminare i ricchi? Si possono eliminare i ricchi? Se non come l'araba finisce, rinasce dai propri scenari, c'è niente da fare, la storia, tipo, storia patriarcale, che io ben conosco perché, ecco qua, eccolo qua, cari amici, qua c'è scritto tutto, 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 c'è scritto tutto qua, cari, eh? Va bene, cari amici, ho capito? O si accetta la contrazione del welfare o si vanno a impugnare i forconi, chiaro, chiaro? Però una volta che avete impugnato i forconi fate fuori i ricchi e dopo 10-15 anni chissà perché di ricchi ne nascono più tanti di quelli che avete eliminato. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.